tempo e vi lasciamo a Elio e ci vediamo domani alle 19.45 ciao perfetto ciao tutto quello che voi volete so vi raccomando di nuovo venite nella marchetta ciao vi raccomando io vi aspetto ciao 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 forse non tutti sanno quanto è piacevole sotto la dolce pentola e non è lo che è questa è la sua ancora più su se è vicino perché più è facile e le sa piattare perché sotto una palazza di drosi non si tornò libera di salire e non si rimane un altro che non c'è quel vegetto d'acqua e forse chiamerò e non ecco perché scopro che i correttini si sono atturati per colpa di un bagliare malefico due mila scottipazzare all'ini perdono un rivolo qua un lontano ma lei non è vero mi sembra saggio con lo straccio dare una passata rapida e qui sotto da me c'è già una magia sul platform e l'ho pagato due milioni delle vecchie lire a nella prossima prossima giorni con il comune io farò valere tutti i miei millenzi e si verranno ancora Il vicino di casa è bravo e buon aiuto, ma quando si arrabbia sono tu. Il vicino di casa è bravo e buon aiuto, ma quando si arrabbia sono tu.